E tu a che livello sei arrivato nel pass battaglia? Guarda che manca poco alla fine della stagione Se sei rimasto indietro questo video fa per te Ecco la guida alle missioni della settimana 9 Come prima cosa trova il deltaplano rampino E con un solo colpo viaggia più di 250 metri Poi trova un veicolo ed entra in un tornado di cromo Fluttuaci dentro per 10 secondi Vai a cercare un animale che brilla E uccidilo per trovare l'arma che nasconde Vi consiglio di andare nei laghi e far fuori gli squali Danneggia nemici utilizzando la mitraglietta silenziata E se hai fortuna dopo aver ucciso un nemico Raccogli il suo loot e trova un'arma leggendaria Questa missione va proprio col potere delle chiappe Balla nel bunker di Bao a sponde del saccheggio E per finire quella un po' più complicata Utilizza un chiama drop per evocare un veicolo Se questo video ti è stato utile ti ricordo di seguirmi Per non perderti tutte le novità sulla prossima stagione E utilizza il codice creatore DAVE14 per supportare il canale